Siamo contenti, Daniel. Ero uscito da giurisprudenza con in testa grandi idee su come cambiare il mondo. Ma il signor Macmillan mi ha fatto capire che non possiamo cambiare il mondo solo con le idee che abbiamo in testa. Serve la sicurezza nel cuore. Quest'uomo mi ha insegnato a nutrire la speranza, perché ora so che l'assenza di speranza è nemica della giustizia. La speranza ci consente di andare avanti anche quando la verità viene distorta da chi ha il potere. Ci consente di alzarci quando ci dicono di stare seduti e di parlare quando ci dicono silenzio. Questo lavoro mi ha insegnato che ognuno di noi vale più della cosa peggiore che abbia mai fatto. Che l'opposto di povertà non è ricchezza. L'opposto di povertà è giustizia. Che il carattere della nostra nazione non si riflette in come trattiamo i ricchi e i privilegiati, ma in come trattiamo i poveri e gli svantaggiati e i condannati. Il nostro sistema ha torto a quest'uomo innocente molto di più di quanto potrà mai ridargli. Ma sono convinto che se tutti seguiamo il suo esempio, potremo cambiare in meglio questo mondo. Se riusciamo a guardarci più da vicino, con onestà, capiremo che abbiamo tutti un gran bisogno di giustizia e un gran bisogno di pietà e magari anche di qualche forma di grazia immeritata. Ti ho insegnato tutto questo? Sì, me ne hai insegnato una parte. Sono bravo, eh?